Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro, negli ultimi tempi soprattutto per presentare dei libri e quest'oggi confermo questa attitudine per lo meno per quanto riguarda la mia conduzione con questo libro di Giuliano Dallò che abbiamo in studio e che ringrazio per la presenza e che ha scritto il libro come ombre in uno sfondo infinito, il cognome tradisce origini bellunesi, questo mi sembra chiaro, dell'Alpago? No, di Bell sono io. Un cognome che si è distribuito. Questa è una storia in buona parte non autobiografica ma che racconta la storia di una persona molto vicina. Si, racconta la storia romanzata ovviamente di mio padre che in giovane età, alla fine della guerra, è andato a lavorare in Argentina seguendo l'ultima parte dell'immigrazione italiana verso... Nel dopoguerra? Nel dopoguerra, sì. Che c'era questa grande necessità di trovare lavoro e l'Argentina curiosamente non fa come si fa adesso, era molto disponibile e generosa ad accogliere. Sì, era strutturata anche nella sua Costituzione, era un grande paese che aveva la necessità di crescere e quindi l'obiettivo non era solo quello di importare della mano d'opera o delle competenze, proprio in questo periodo si cercavano le competenze, si cercava delle persone specializzate, ma era quello di integrarle nella loro grande nazione. Si rivolgevano soprattutto agli italiani perché forse non molti sanno, ma più del 50% delle persone che vivono in Argentina hanno origini italiane. Sì, confermo, sono tantissime, è la comunità originaria più numerosa. E questa è una migrazione cominciata alla fine dell'Ottocento, poi proseguita, molto marcata proprio negli anni nei quali è stato via suo padre. Sì, è stata l'ultima parte, l'ultimo flusso migratorio verso l'Argentina, del quale peraltro si parla molto poco, perché si parla molto di quello che è successo prima, di quest'ultima fase si parla invece di meno. In realtà tra Italia e Argentina c'è sempre stato un collegamento, anche durante il fascismo molti andavano, lavoravano sei mesi, poi tornavano. C'è stato sempre un filo che legava l'Italia e l'Argentina, a prescindere dal governo che noi avevamo. Lei fa lo scrittore di professione? No, io di professione faccio un professore, insegno Fisica Tecnica al Politecnico di Milano. Però, quindi io scrivo, però non… Questo però è un romanzo. Questo però è un romanzo, sì, quindi mi sono confrontato con questa nuova esperienza molto affascinante, molto difficile, insomma, non semplice. Evidentemente leggendo il libro si intuisce che c'era una necessità di scrivere questo libro. Qual è questa necessità? La necessità primaria di recuperare un rapporto con mio padre, anche se mio padre dal 2014 è mancato. E poi strada facendo è emersa anche la necessità di portare la testimonianza di un'esperienza che hanno fatto tanti italiani, in particolare italiani miei conterranei di questa zona. Io credo che queste esperienze non debbano essere dimenticate. Qui abbiamo una foto e tra queste persone c'è anche suo padre. Mio padre sì, è proprio al centro del gruppo ed fa parte di una serie di foto che io ho ereditato ed erano contenute in un album. Ecco, una caratteristica che mi aveva incuriosito di queste foto è che si fotografavano tutti vestiti bene, quindi c'era questa esigenza di comunicare a chi stava in Italia il successo della loro scelta. Vediamo alcuni con giacca e cravatta. In parte però è una menzogna perché era il non dover ammettere di non aver ottenuto il successo che uno era convinto di poter ottenere molto facilmente. Sì, era proprio così. Cioè chi decideva di andare faceva una scelta molto importante, una scelta che a volte era criticata da chi rimaneva e quindi sarebbe risultato un fallimento dire non mi sono trovato bene. Quindi tutte le foto, gran parte delle foto dell'album di mio padre, ma anche altre foto che poi ho recuperato da parenti e amici, fanno vedere l'immagine di queste persone molto molto eleganti. Sfuggire alla reprimenda, te l'avevo detto. Esatto. Per evitare di incorrere. Raccontiamo la storia molto brevemente. Siamo alla fine della guerra, la provincia di Belluno come tutte le province soffre la fame, molti partono, c'è l'accordo con il Belgio, Carbone in cambio di mano d'opera, con la Germania, da tutte le parti. E si inserisce anche l'Argentina. Poi perché uno scelga l'Argentina piuttosto che il Belgio o la Svizzera? Sono cose che il libro non spiega, ma magari potrebbe essere una domanda anche questa. Suo padre l'ha mai spiegato perché l'ha scelta? No, non l'ha mai spiegato. Andare in Argentina allora è come adesso pensare di andare su Marte. Questo non l'ha mai spiegato. In realtà fu Cavour il primo a ritenere strategico che ci potesse essere un rapporto tra l'Italia e l'Argentina, uno sbocco, mentre le altre nazioni cercavano l'Asia, cercavano l'Africa, cercavano altri contesti ed è da lì che è iniziato questo rapporto che è continuato con tutti i governi che si sono succeduti. Allora questa necessità di cambiarsi la vita matura anche con la conversazione con amici. Due decidono di andare assieme a Gianni e vanno a Genova che era il porto di partenza. E lì c'è un primo elemento identificativo di questa emigrazione che è una nave. Una nave, sì, la nave Santa Fe, che è una nave che aveva già qualche anno, che era stata però completamente ristrutturata. Non era la nave dei drammi che ispiravano la canzone Mamma mia da cento lire. Diciamo che non c'era la terza classe. C'era la terza classe, certo. Dobbiamo contestualizzare il periodo al 1949, quindi alla fine della guerra. Non sono tempi lontanissimi. Quindi loro si vedono questa nave enorme. In effetti mio padre non aveva mai visto neanche una città grande come tutti gli altri. Non erano abituati a vivere qui in un ambiente protetto dalle montagne. D'improvviso si trovano questa nave che per loro è l'equivalente di un'astronave. È molto dettagliata la descrizione del viaggio. È anche un primo rapporto con l'acqua, con la grande acqua. Certo, per loro è stato un impatto non indifferente. È un viaggio nell'ignoto. E quindi in questo viaggio di andata loro si rapportano sempre con tutto ciò che li circonda, in particolare con il mare, con il sole che a un certo punto fa dei percorsi diversi rispetto a quelli che si immaginavano. Cambia la volta celeste in riferimento all'esterno. Certo, la volta celeste che cambia. L'ora che cambia anche. Quindi la prima parte attraversa il Mar Mediterraneo, dopodiché escono in mare aperto e cambia anche la dimensione delle onde. Cominciano a vedere delle cose che non avevano mai visto. E prendono anche confidenza con questo elemento che fa una certa impressione che è il mare ma l'oceano in modo particolare. In questa nave non sono tutti che vanno in Argentina, c'è una prima tappa. Questo anche a significare la grande massa di persone che aveva necessità di risolversi la vita in qualche modo si fermano in Brasile e lì c'è un episodio che viene raccontato dove si comincia a capire che questa emigrazione comincia a essere mal tollerata perché si dice ci rubate il posto di lavoro, che mi pare sia una frase che torna... Infatti è una frase che spesso sentiamo. Quello è l'altro motivo, che è il terzo motivo che mi ha portato ad approfondire questo aspetto. Loro sbarcano facendo tappa a Rio de Janeiro, fanno un giro perché ne hanno il tempo e le persone del porto li insultano e quindi loro rimangono scioccati insomma e provano quello che molte persone adesso magari possono provare. In effetti gli italiani che emigravano erano di livello un pochino più alto, quindi erano specializzati e la paura che portassero via il lavoro c'era già fin da allora. Quindi è una costante. Diciamo che questo libro potrebbe dare anche una indicazione per come gestire noi i flussi migratori perché allora si diceva possono venire ma devono saper fare il lavoro. E' una cosa che non sapevo che venivano messi alla prova al porto di Gevano per vedere se effettivamente sapevano fare i muratori. C'erano delle convenzioni tra l'Italia e l'Argentina, l'Italia garantiva di mandare delle persone specializzate. Poi non è sempre stato così perché, non mi ricordo se è stato descritto ma non penso, addirittura firmavano i certificati falsi. Alcuni li recuperavano durante il viaggio cercando di addestrarli e sono capitati dei casi di persone che sono arrivate lì e poi sono tornate indietro. Io devo andare veloce perché il tempo corre altrettanto veloce. Poi arriva in Argentina, i tre amici, i due lavorano insieme, uno fa un'altra scelta. C'erano anche le storie drammatiche degli incidenti sul lavoro. C'è l'innamoramento con Maria che compare improvvisamente nella vita di Gianni e lui che impara questo ballo stranissimo che ha fondamenta italiane ben marcate e che è il tango. Fa una descrizione molto precisa del tipo di tango e dello strumento, questa fisarmonica. bandolion, sì. Le milonghe che erano i luoghi dove si ballava il tango diventavano anche i luoghi di aggregazione. Era necessario e indispensabile ballare un pochino questo ballo perché era il modo di relazionarsi nel tempo libero con le altre persone. Il tango proprio in quel periodo arriva all'apice del… Se la cita poi tutti i vari artisti famosi o quello che ricordo… Guarda caso italiani insomma. Sì, Astor Piazzolla fra tutti. Una cosa simpatica è che in quell'ambiente, fatto di gente, di lavoratori, rudi, a decidere poi l'incontro della donna e non lo fa in modo sfacciato, ma come è che lo faceva? Accettando, no? Sì, ci sono delle regole, dei codici. Un uomo non va a invitare la donna come si fa adesso, da lontano la guardava negli occhi, se lei teneva gli occhi fissi va bene, se no guardava da un'altra parte, quella si chiama anche adesso Mirada e quindi era la donna che decideva. Senta Gianni assieme ai suoi amici deve prendere la nave perché non ci sono ancora questi trasporti e aerei tanto facili. Passano tre anni, il mondo è in tumultuosa crescita. Potrebbe, decide di tornare in Italia, tornare con l'aereo, ma fa poi lui la scelta di tornare ugualmente in nave. E lì fa un incontro particolare con un giornalista che sembra essere il cronista, sembra essere appunto Giuliano Dallò. Il viaggio di ritorno è completamente diverso, è un viaggio nel quale non è il mare il protagonista ma sono i loro discorsi, tutto quello che succede all'interno, il perché è tornato, il fatto di elaborare questa, chiamiamola, pseudo sconfitta e la presenza di questo giornalista che va a Buenos Aires per seguire da vicino come inviato del gazzettino i funerali di Evita, lui torna in nave e si conoscono e da lì nasce un rapporto e nasce l'occasione per Giovanni di raccontare tutto quello che è successo. Senta, un sinonimo di populismo è anche peronismo, però in questo libro, almeno in una traduzione, un'accezione diciamo anche molto faziosa nel nostro paese, in realtà sembra essere stato un personaggio illuminato tanto quanto sua moglie. Mio padre mi ha parlato sempre di Peron, io quindi me ne ha parlato in modo assolutamente positivo, quindi sono rimasto fedele a questa sua interpretazione. Peron è un personaggio del quale, che divide, o lo si ama o lo si... dentro questo personaggio c'era un po' di tutto, in positivo e in negativo, a questo personaggio si affianca una moglie che ha avuto un ruolo fondamentale e credo che sia stata una delle riforme sociali più importanti del mondo, quella che è avvenuta in quel periodo. Sì, poi lei qua dice anche che è una specie di terza via, da una parte c'era il capitalismo americano, dall'altra parte c'era il socialismo sovietico. Lui trova un mix, mi sembra l'ideale poi. Cerca una terza via, che poi in effetti è un po' quello che stiamo cercando sempre, la terza via tra questi due estremi. Chiaramente quando uno cerca la terza via viene strattonato da una parte o dall'altra e non si capisce bene da che parte c'è difficile mantenere questo equilibrio, lo dimostra anche Peron per quello che è successo dopo. Nonostante tutto il peronismo rimane come punto di riferimento importante con diverse... Un movimento politico che ha lasciato la traccia. Ovviamente con tanti italiani ci sono dei quartieri che sono marcatamente caratterizzati dagli italiani. Tra questo un quartiere famoso, se non altro perché c'è nato un famoso giocatore, che è La Boca. La Boca, sì. È un quartiere di Genovesi, fondato da Genovesi ed è caratterizzato dalle case dipinte di colori molto brillanti, quindi è anche una metaturistica attuale. Perché questa caratteristica? Le case dipingevano con i residui dei colori delle navi. È un'enclave italiana molto importante, ma ce ne sono anche altre. Quando loro arrivano a Buenos Aires vedono nomi italiani dappertutto, dicono, qui si parla italiano, poi dei fatti si accorgono che invece l'italiano non è la lingua parlata. Poi c'è anche una furtiva fuga, ma significativa, nella Pampas e in Patagonia in modo particolare queste distese che affascinano. Sì, loro vanno per un certo periodo a una piccola loro impresa a Madariaga, che è proprio nel bel mezzo della Pampa e lì si rapportano con quella parte di Argentina che è forse la più bella. Senta, qui mi pare di capire che lei voleva trovare un po' le origini di una malinconia che aveva notato sempre in suo padre. Sì, era proprio questo. Perché io se guardo mio padre fotografato nell'album e poi lo guardo come me lo ricordo, sono due persone completamente diverse. Dietro questa malinconia ho voluto ricostruire la parte che lui riteneva più importante della sua vita, che è stata quell'esperienza. È stato facile iniziare questo libro? Non è stato facile iniziare. Mi sono dovuto documentare tantissimo, però una volta che ho iniziato sono andato via molto veloce e ho vissuto una parte della mia vita in quei mesi in cui scrivevo una doppia vita. Io ero contemporaneamente a casa in Italia ed ero lì, vivevo. Quindi è come se quel viaggio, sia l'andata che il ritorno, l'avessi vissuto di persona. E senta, visto che l'ha fatto la domanda se è stato difficile iniziare, è stato difficile scrivere... La Pampa era lì ad aspettarlo come una madre, pronta ad accogliere la sua umbra in quello sfondo infinito, che deve chiudere il libro. È stato difficile chiudere il libro? Io ho restituito mio padre alla Pampa, al suo sogno. Abbiamo presentato... purtroppo quello che avete sentito è una parte piccolissima di quanto troverete in questo libro, che si intitola Come ombre in uno sfondo infinito, di Giuliano Dallò che abbiamo in studio. La storia che parla di emigrazione e che sicuramente potrà interessare molte persone, anche perché si trattano altri argomenti, il peronismo, il tango, come si vive in Argentina, il viaggio in nave, il ritorno. Ci sono veramente tante suggestioni. Abbiamo dimenticato di dire che questo personaggio partono da Longano, che è una località che si trova nel comune di Sedico. Grazie, auguri naturalmente per il libro. Grazie a voi per l'opportunità di presentarlo. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a voi.